Mentre il mondo presenta all'uomo una varietà di paradisi artificiali che la pubblicità presenta come capace di risolvere tutti i problemi, riempire tutti gli abissi scavati nei cuori dal male, un male che ti impedisce a volte perfino di respirare, Dio ti offre per i meriti di Gesù l'unico e vero paradiso. Lo Spirito Santo presente nel tuo cuore che non ti chiude nel tuo egoistico benessere personale ma ti fa uscire fuori di te trasformandoti in un formidabile agente di cambiamento nel mondo.